Questa gita? Sì, sì, è tutto sotto controllo. Ah! Gio, come stiamo andando? Gio, non ci siamo persi, è tutto sotto controllo. Senti, mettila. Oh! Senti, senti che è un fumo di lì, Gio. Lì, Gio, quelli cinesi con gli acusi. Sì, lo sappiamo, sull'ì. Sì, ma comunque non è lì, Gio. No, è odore di camphora. No, 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 questa non è camphora. Se devo essere sincera, questa è proprio... No, 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 ma non è la luce. La pagina li richiamava. Gli uomini volevano andare verso il mondo delle dè. Ma la pagina li richiamava. Gli uomini volevano andare verso l'elevazione spirituale. Ma la pagina, sorrata, li richiamava. E la prossima volta me lo dici, vengo con la truppa da ginnastica. Grazie per aver acquistato Sexy Robot Miriam, costruita in Cina, progettata in Giappone, imballata in Guatemala. Ci rallegriamo per il suo acquisto. Grazie per aver scelto la tecnologia Ishiburo Tashemi Kimono. Prima di procedere all'utilizzo, la preghiamo di inoltrare un feedback sul gradimento del prodotto e del servizio della sessualità. Così, è un inferno. Ma infatti non è altro che una simbologia, quella dell'inferno da te. No, vorrei cominciare adesso. La mascherina è veramente molto emozionante essere per noi qui oggi dopo un anno, quasi e mezzo, siamo felici. Applausi. 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 E vogliamo ringraziare, quindi ringraziare voi che siete venuti, nonostante i distanziamenti, le mascherine, insomma siete anche tanti. Questo è veramente meraviglioso. Ringraziare i nostri tecnici. Il momento spettacolo in Lombardia è il comitato di scopo che si è costituito, che è il Comitato Generiamo Cultura, ha deciso di organizzare un festival che si chiama Billy Red e toccherà tutti i luoghi che invece sono in forte difficoltà per la riapertura. Perché alcuni teatri come questo che noi ringraziamo può farlo, anche coraggio da mente, altri luoghi più piccoli no. Per cui dal 7 al 13 giugno se andate su Facebook, sulla pagina Billy Red Festival trovate tutto e sostenetelo perché è un festival organizzato proprio dalle lavoratrice e lavoratori dello spettacolo. Finito. Applausi. 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 Applausi.